Mettiamo subito le cose in chiaro, siamo nel backstage di un calendario, ma non vi aspettate di vedere senza veli la starletta di turno o le solite casalinghe annoiate. Qui a massa il calendario, nudi, lo fanno i cassa integrati, quelli della Eton, la multinazionale americana che ha appena chiuso lo stabilimento di Romagnano. Fullmont insegna a spogliarsi di fronte al sapiente obiettivo di Riccardo Dallelu, che sono gli ex operai della fabbrica Puana, fotografati tra frese e trapani a colonna di un'officina di massa che ha messo a disposizione i locali. La Eton, infatti, ha serrato da giorni l'ingresso ai capannoni. Insomma, l'azienda ne ha messi in mutande, loro e i licenziati posano nudi per denunciare la condizione in cui si trovano e richiamare l'attenzione sulla vertenza occupazionale. L'iniziativa è il patrocino della provincia e pure l'appoggio dei sindacati. Il calendario, che già promette di andare a Nuba, verrà stampato in 2004. Questo sarà il mio nuovo lavoro, preparatevi, sto arrivando.